Dopo aver studiato come è fatto il rivestimento del nostro corpo, ovvero la pelle, passiamo a studiare le strutture di sostegno del nostro corpo, ovvero quegli organi rigidi e resistenti che danno forma e consistenza all'intero organismo, tenendo in posizione gli organi interni. Questi organi sono le ossa, che nel loro complesso formano lo scheletro. A prima vista possiamo pensare che un osso sia un costituente inerte del corpo umano, quasi privo di vita, ma in realtà sappiamo bene che anche esso è una parte viva del nostro corpo. Innanzitutto perché se si rompe fa male e soprattutto perché, se ne osserviamo una fettina sottilissima al microscopio, troviamo al suo interno delle cellule. Inoltre un osso, durante la vita di un individuo, cambia più volte di forma e dimensioni, si accresce insieme all'organismo e, a seconda degli stimoli esterni, viene riformato e rimodellato continuamente. Non solo, ma in assenza di alcuni elementi minerali, essenziali per le cellule, soprattutto calcio e fosforo, fa sì che questi vengano prelevati proprio dalle ossa, che così costituiscono anche un'importante riserva di tali elementi. Il tessuto osseo appartiene alla categoria dei tessuti connettivi, formati da cellule separate tra di loro e disperse in una sostanza comune o matrice. Nel caso dell'osso, la matrice è una sostanza minerale dura, formata soprattutto, come detto, da calcio e fosforo e prodotta dalle cellule, quelle in nero e piccole in questa immagine, che restano incastrate al suo interno, cellule chiamate osteociti. Queste cellule sono piuttosto piccole e possiedono una serie di sottili prolungamenti. Esistono due tipi di tessuto osseo, entrambi presenti nel nostro scheletro. Il tessuto osseo compatto o lamellare, che vediamo in questa immagine al microscopio, è quello spugnoso. Il primo, ovvero il tessuto osseo compatto o lamellare in questa immagine, è organizzato in modo più complesso e formato da unità dette osteoni. Ciascuno di questi osteoni è un cilindro formato da lamelle di sostanza minerale che ha al suo centro una cavità, detta canale di Avers, dove sono contenuti vasi sanguigni per il nutrimento delle cellule osse e fibre nervose. Tra le lamelle sono incastrate e praticamente murate le cellule dell'osso, le quali inviano i loro sottili prolungamenti, io le paragono sempre a tanti ragnettini come forma, inviano i loro prolungamenti fino a raggiungere il canale di Avers, dove prelevano dai vasi che contiene nutrimento e ossigeno. Le zone dell'osso fatte di tessuto compatto sono quindi formate da tanti di questi osteoni cilindrici, che visti in sezione appaiono come delle rondelle, come dei cerchi. Il tessuto spugnoso, che vediamo in quest'altra immagine, ha invece un'organizzazione più disordinata, con la sostanza minerale che forma questa impalcatura di fibre sottili, questa impalcatura a maglie larghe, al cui interno sono sparsi i vasi sanguigni, nervi e vedremo altre strutture di rilievo, il cosiddetto midollo osseo, di cui parleremo tra poco. In questo video vediamo un osso in tre dimensioni, solitamente la parte compatta, il tessuto compatto è all'esterno e quello spugnoso è all'interno. Vediamo quindi all'esterno il tessuto compatto. Adesso vedremo una bellissima animazione di come è fatto con tutti gli osteoni cilindrici. All'interno il tessuto osseo, come detto, è spugnoso. Adesso andiamo a fare uno zoom sugli osteoni del tessuto lamellare compatto. Ecco, vediamo, sono dei tubi cilindrici incastrati tra di loro, fatti a lamelle concentriche. In rosso e in blu vediamo i vasi di quel canale centrale di ogni osteone, detto anche canale di Avers. Adesso vediamo emergere in azzurro tutti questi piccoli ragnetti, almeno come forma li ricordano, come detto, che sono le cellule osse. Eccone una in primo piano. Rivediamo quindi l'osteone e adesso vediamo l'intreccio dei vasi. Quindi vedete un osso è fatto di sostanza minerale ma anche di cellule di vasi sanguigni. È un qualcosa di assolutamente vivo e assolutamente vitale. Adesso un breve zoom invece sull'impalcatura, anche questa molto affascinante, del tessuto spugnoso con i suoi ampi spazi cavi. Esiste un terzo materiale scheletrico che vediamo in questa immagine al microscopio, il quale non è un tessuto osseo ma un altro connettivo specializzato detto cartilagine. A differenza dell'osso, la cartilagine è formata da cellule disposte a gruppi sparsi, di solito gruppi di 4 ed 8, inserite in una matrice o sostanza fondamentale molto più elastica rispetto all'osso. Nel corpo umano troviamo la cartilagine in parti meno rigide dello scheletro, come la punta del naso, il padiglione auricolare e soprattutto i dischi che separano le vertebre della spina dorsale. Esistono d'altra parte dei vertebrati, da noi studiati come pesci cartilaginei, squali, razze, torpedini, il cui scheletro è formato interamente di cartilagine, che però in questo caso non è elastica ma dura e mineralizzata. Vista al microscopio, presenta però le cellule disposte come nella cartilagine, come in questa fotografia e non come nell'osso. Inoltre, la maggior parte delle ossa del nostro corpo vengono prima formate nell'embrione in cartilagine, più elastica e in grado di seguire i processi di accrescimento e questa soltanto in seguito viene sostituita dall'osso vero e proprio. Come detto, a seconda di stimoli e sollecitazioni ambientali, l'osso subisce un rimodellamento continuo. Dove questo viene riassorbito, come vediamo in questo video, viene raggiunto da queste grosse cellule dette osteoclasti, che letteralmente lo digeriscono recuperandone gli elementi. Quindi queste cellule dette osteoclasti divorano la matrice e la sostanza minerale ossea e la rimettono in circolazione laddove sia necessario. Tra poco vedremo invece intervenire le cellule che fanno il processo opposto, cioè le cellule che costruiscono l'osso, le quali hanno solo una lettera di differenza nel nome. Eccoli qua, si chiamano osteoblasti e qui ne vediamo alcuni in azione, mentre stanno rinforzando l'osso e deponendo nuova matrice minerale. Le ossa del nostro corpo hanno forme di vario tipo. Nel prossimo video parleremo di come sono organizzate e disposte le ossa nel nostro scheletro. Già da ora però possiamo notare come esse abbiano forme molto diverse tra loro, anche in questo caso legate alla loro funzione. Esistono così ossa lunghe, corte, piatte e anche irregolari. Le ossa piatte, come quelle che formano ad esempio la volta cranica, in azzurro e in alto, sono quelle dalla struttura più semplice, hanno forma appiattita e sono presenti nelle parti più rigide dello scheletro. Sono presenti proprio in queste zone per la facilità che hanno ad incastrarsi e saldarsi tra di loro. Le ossa corte, come ad esempio quelle che formano il palmo della mano, o anche le vertebre, anche se si considerano più di forma irregolare, hanno forma tozza e poco allungata. Le vertebre, che sono più irregolari che corte, incolonnandosi l'una sopra l'altra, come vedremo, danno luogo al principale asse di sostegno del nostro corpo, la colonna vertebrale o spina dorsale. Infine, le ossa lunghe, ne vediamo un esempio in alto a sinistra, sono quelle, come dice il nome, molto sviluppate in lunghezza. Alcune più robuste, altre più sottili, presenti soprattutto negli arti, ovvero nelle braccia e nelle gambe. Come andiamo a vedere in quest'immagine di osso lungo, chiaramente le ossa lunghe sono quelle più famose e conosciute, vediamo che sono formate da una parte centrale allungata, chiamata diafisi, e da due estremità più tozze e tondeggianti, le quali si chiamano epifisi. Come visto nel video precedente, la parte periferica di entrambe le parti è formata da osso compatto, la parte più interna da osso spugnoso. Inoltre, tra diafisi ed epifisi, è presente, finché l'osso non ha completato il processo di accrescimento e sviluppo, uno strato sottile di cartilagine, a livello di cui si continua a formare nuovo materiale osseo, che ne consente l'aumento di lunghezza finché lo sviluppo fisico non è completato. Non solo, ma nella parte spugnosa interna ad un osso lungo, sono presenti quei materiali che costituiscono il cosiddetto midollo osseo. Ne abbiamo di due tipi. Nella maggior parte dei casi, come vediamo al centro, nella diafisi dell'osso nell'immagine, le cavità del tessuto spugnoso sono ripiene di midollo giallo, costituito da cellule adipose. Quindi, come già detto, cellule che costituiscono, che contengono una riserva di grasso. Al contrario, ma soltanto in alcune ossa, troviamo invece, all'interno del tessuto spugnoso, il cosiddetto midollo rosso, che ha una funzione molto importante, perché è il luogo dove vengono prodotte le cellule del sangue. Come vedremo parlando del sangue, tutte le varie cellule in circolo, vedremo globuli rossi, globuli bianchi, non sono in grado di riprodursi ed hanno una vita limitata e piuttosto breve. Vengono continuamente distrutte e riformate. Dov'è che si riformano? Esattamente in quelle poche ossa, soprattutto il femore nell'adulto, l'osso lungo della gamba, che al posto del midollo giallo di natura grassa contengono invece il midollo rosso. Vediamo adesso, in questo video, un'animazione che ci presenta il midollo rosso delle ossa. Ecco, qui vediamo nella parte centrale di quest'osso, è presente questa cavità colorata in rosso e tra poco, vedete, colora anche tutte le cavità interne a questa impalcatura spugnosa presente nel cuore dell'osso. Bene, e il colore rosso adesso vediamo proprio questa bellissima animazione, queste sono le cellule del sangue che si stanno formando proprio nel cuore di alcune ossa. Le ossa del nostro scheletro non sono isolate, ma unite tra di loro e tramite altri organi che saranno i muscoli possono muoversi e cambiare di posizione l'uno rispetto all'altro. Il punto di contatto o giunzione tra due ossa confinanti nello scheletro è un'articolazione. Esistono tre tipi di articolazioni, fisse, semimobili e immobili. Le articolazioni fisse sono quelle in cui le ossa sono saldate tra di loro, prima immagine che vediamo, quasi fuse tra di loro, e non hanno possibilità di movimento reciproco. Si trovano in parti compatte e rigide, come la volta del cranio e il bacino, che è un complesso di pezzi ossei che lega le gambe al busto. Nelle articolazioni, che vediamo invece in quest'altra immagine, semimobili, c'è un po' più di libertà di movimento, ma non eccessiva. Articolazioni di questo tipo, come vediamo nell'immagine, si trovano tra le vertebre della colonna e sono costituite da dischi di cartilagine rappresentati in viola che facilitano lo scorrimento dell'una sull'altra. La nostra colonna vertebrale, infatti, oltre ad avere delle curve naturali, è sufficientemente flessibile da potersi curvare. Infine, le articolazioni mobili garantiscono un'ampia libertà di movimento reciproco alle ossa confinanti e si trovano a livello delle ossa, delle braccia e delle gambe, caratterizzate da un'ampia libertà di movimento. Sono le articolazioni più complesse. In esse le ossa non sono realmente a contatto, ma le loro estremità confinanti sono contenute all'interno di una capsula di cartilagine, dentro la quale è presente del liquido, il liquido sinoviale, il quale lubrifica i capi dell'articolazione facilitando i movimenti dell'osso. Sappiamo bene, infatti, che le ossa delle braccia e delle gambe hanno una certa libertà di movimento e la possibilità, quindi, di assumere posizioni diverse. Se questo video vi è piaciuto, vi ha incuriosito, vi ha interessato, iscrivetevi al canale Il Signore delle Scienze, dove trovate video didattici legati a tutti i possibili aspetti del mondo scientifico.